Don Giovanni, il mio padrone, è il più grande scellerato che mai abbia camminato sulla terra. Lasciami in pace. Ma come fa un uomo a restare appiccicato tutta la vita alla prima donna che incontra? A rinunciare per lei al mondo? Ma come posso essere stata così stupida da dubitare di un inganno così chiaro a tutti tranne che a me? Com'è possibile che io sia stata ingenua al punto che non mi ero i miei occhi? Se io scopro che voi venite qui per disonorarmi, io preferisco vedere molto a voi e molto a me, ma mai vedermi disonorata. Se io scopro che non mi ero i miei occhi, ma non mi ero i miei occhi, ma non mi ero i miei occhi, ma non mi ero i miei occhi. Grazie. Grazie. Grazie.